Come tutti sappiamo qualche settimana fa Derek Lansford ha effettato un guest posing al Pittsburgh Pro scioccando veramente chiunque e qualche giorno dopo, anzi qualche settimana dopo Annie Rambod sul suo podcast ha parlato del futuro di Derek in un episodio in cui c'era solo lui e un suo assistente e un altro mentre c'era anche Derek stesso che è uscito all'incirca qualche giorno fa nella prima puntata Annie Rambod ha parlato di come si è sentito lui e anche Derek Lansford ad andare in quel guest posing Annie ha detto che il suo guest non era organizzato è stato preparato all'ultimo minuto in quanto Rami ha dato forfè e Jim Magno gli ha chiesto qualche ora prima se volesse salire sulla pedana e lui gli ha detto di sì e che non si sarebbero aspettati tutto questo successo di questo guest posing cui Derek ha sbordito chiunque poi sempre in quella puntata Annie ha parlato anche di come sta affrontando questa fase di off-season come sappiamo e come ha anche lui detto Derek ha il problema del peso della categoria 2.12 lui è uno che per rientrare nel peso di 96 kg deve sacrificare muscolo e questo lo ha anche detto Annie ha detto che sicuramente quest'anno dovranno perdere muscolo Derek al momento non sta mangiando tanto infatti per quel guest posing era circa 150 grammi di carbo quindi molto bassi perché devono tenere sotto controllo il peso Derek in questo momento fa anche cardio tutti i giorni sempre per il peso e loro sanno al 100% che questo fatto del peso è un problema ne hanno parlato sin dal primo giorno sin dall'inizio della loro collaborazione un anno e mezzo fa e Annie ha anche detto che Derek passerà la Open ma non si sa quando perché è una cosa di cui ne hanno sempre parlato di fare il passaggio all'Open ma per il momento non è nei loro piani per il momento vogliono continuare nella 2.12 e vincere il secondo titolo poi nel secondo episodio c'era anche Derek ha spiegato ecco come si è sentito quel guest posing e i suoi piani ecco per il futuro Derek all'inizio era un po' incerto se salire sulla pedana o no perché non sapeva come avrebbe reagito il pubblico al suo look e se gli sarebbe piaciuto o no anche perché era un guest programmato all'ultimo secondo dato il forfait di Rami all'ultimo secondo Derek era in ansia ecco per quel guest posing però appena è salito sul palco a confronto con gli altri si è scatenato e si è divertito un sacco anche lui ha detto che il suo peso è un problema perché deve stare a dieta tutto l'anno non può mangiare grosse quantità di cibo infatti al momento sta sotto i 200 grammi di calvo sui 150 per il peso deve fare cardio tutto l'anno tra un po' all'incirca tra qualche giorno Ani ha detto che Derek inizierà la preparazione per l'Olimpia sette mesi prima perché voleva essere sicuro di rientrare perfettamente nel peso e un altro problema per Derek è il fatto che lui è una macchina per quanto riguarda il mangiare nell'ingurgitare il cibo Derek è una macchina ha detto che lui ha un grossissimo appetito lo ha sottolineato anche Ani ha detto che Derek ha una fame assurda e che non ha mai visto una cosa così cioè Derek ha detto che riesce a ingurgitare quantità di cibo veramente molto alte cosa che non gli è mai capitata anche fatto esempio anche con Philit Jay Cutler non erano così affatto come Derek Derek è come ha detto lui is an eating machine cioè una macchina da mangiare e mangerebbe qualsiasi cosa e il fatto di stare a dieta tutto l'anno per lui è molto molto difficile soprattutto adesso che dovrà iniziare la preparazione per l'Olimpia sette mesi prima per essere sicuro di entrare nel peso anche lui ha detto che il passaggio alla Open è un qualcosa che avrà sicuramente ma per il momento no per il momento vuole continuare nella 2.12 e provare a vincere il secondo titolo secondo me il fatto di restare un altro anno nella 2.12 è una cosa sensata per dimostrare di essere il campione assoluto per due anni di fila e per dimostrare di non aver vinto per fortuna quindi secondo me questa cosa di restare un altro anno nella 2.12 ci sta anche se pesa un limite però dopo che Derek avrà vinto il secondo titolo o mettiamo caso che non lo vincerà secondo me la cosa più ovvia sarà passare alla Open il corpo di Derek non può sopportare di tagliare tanta massa muscolare perdere così tanta massa muscolare per rientrare in 96 kg è uno stress molto molto forte molte volte i fisici devono crescere hanno bisogno di crescere e non devono ecco tagliare di tanto la loro massa muscolare perché hanno bisogno di crescere Derek appunto è uno di questi Derek è anche molto molto giovane ha 29 anni quindi non ha ancora raggiunto il suo massimo sviluppo muscolare e tagliare sempre per anni per rientrare nel peso non è che sia una cosa molto fantastica e molto salutare quindi secondo me ripeto il fatto di restare un altro anno ci sta però dopo l'Olympia 2022 secondo me la cosa più sensata sarà passare alla Open per esempio potrebbe partecipare all'Arnold Classic che sarà tre mesi dopo l'Olympia quindi sarà anche una prima dimostrazione di Derek a confronto con atleti Open magari vincere anche l'Arnold Classic e qualificarsi così all'Olympia 2023 Open secondo me Derek nella Open come avevo già detto potrà fare veramente molto molto bene secondo me sarà uno che rientrerà sicuramente in top 5 e anche in top 3 perché è quello con la condizione migliore al momento e anche quello con la struttura e il colpo d'occhio ha un effetto 3D assurdo quindi Derek nell'Open farà molto molto bene e guadagnerebbe anche di più di quello che guadagna attualmente nella 2.12 mi pare che il primo premio per la 2.12 sia di 50.000 dollari 50-60.000 dollari mentre tipo il terzo posto l'Olympia ne guadagna ancora di più o la stessa cifra quindi economicamente li farebbe anche più comodo comunque questo era quello che avevano da dire Annie Rimbaud e Derek Lansford sul loro futuro sul futuro di Derek nella Open o no poi se volete vedere le puntate intere le trovate sul podcast di Annie Rimbaud si chiama The Truth Podcast basta che scrivete Annie Rimbaud Podcast e se capite l'inglese ve lo consiglio anche perché Annie parla molto chiaro non usa termini complessi quindi si fa capire molto molto bene comunque fatemi sapere cosa ne pensate e se pensate che anche voi Derek Lansford dopo l'Olympia 2022 dovrebbe passare all'Open vi chiedendo like e commento come al solito e noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti